Siamo con Andrei Repko, titolare del ristorante Kozak e prima linea qui a Terni per la fornitura di aiuti alimentari in primo luogo alla popolazione ucraina. Andrei, ucraino, viene dalla città di Lviv, che si trova nel nord-est dell'Ucraina e dalle prime fasi dell'invasione russa iniziata al 24 febbraio scorso, si è subito attivato insieme alla comunità ucraina e Terni per inviare aiuti alla popolazione, che in questo momento si trova in uno stato chiaramente di grave difficoltà. Allora, Andrei, ci puoi raccontare com'è iniziata questa attività di aiuto? Adesso, prima di tutto sono già partite tante interviste, prima che è cominciata la guerra, perché già c'era una situazione un pochetto critica e c'era una situazione di crisi fra Ucraina e Russia. Poi da quando è cominciata la guerra abbiamo pensato di fare quello che si poteva fare, perciò o di partire e andare in Ucraina o di mettersi a aiutare chi sta già di là. Perciò io con il nostro gruppo dei ragazzi, che sono tutti ragazzi ucraini che lavorano qui a Terni, ci siamo messi a disposizione della comunità, abbiamo creato questa associazione di ucraini e Terni e stiamo aiutando, stiamo aiutando a chi sta di là che estremamente sta peggio di noi, perché sta sotto il continuo assediamento, sotto i bombardamenti, quello più o meno è quello che facciamo. Raccogliamo i beni di prima necessità, perciò cominciando i medicinali, il cibo per bambini, di cui c'è più bisogno e il cibo chiaramente in scatola. Un cibo a lunga conservazione. Come li fate arrivare? Adesso li facciamo arrivare con i pullman, con pulmini, adesso abbiamo fatto diversi viaggi con pulmini nostri e poi facciamo i viaggi con i pullman di linea, che portano i rifugiati in Italia, ritornando indietro vuoti, li carichiamo tutti questi beni e li ritornano, chiaramente, al paese poi da lì vengono smistati. Avete avuto qualche risponso da parte delle persone che sono laggiù? Sì, adesso noi chiaramente la roba che mandiamo, abbiamo tutta una serie di foto che ci mandano indietro dove viene comunicato, dove va questa roba, come viene smistata, eccetera. Chiaramente ci fidiamo cicamente di queste persone perché stiamo collaborando con la Chiesa Cattolica Ucraina, perciò in gran parte la roba viene portata a Ivano Fravichivsk dal seminario di sacerdotile, perciò sono giovani sacerdoti che poi lì la dividono questa roba e la spediscono dove c'è più bisogno, perciò fisicamente non c'è neanche bisogno di controvarli. Ecco, la zona in cui arrivano sono già state interessate dalla guerra? Diciamo solo le zone più sicure al momento, ci sono stati qualche attacco, qualche bombardamento, ma non sono proprio zone in piena guerra, perciò non parliamo della parte dove c'è la guerra e il terrorismo, parliamo della zona est dell'Ucraina dove ci sono stati bombardamenti, ma sono casi un po' unici al momento. Quando è stata l'ultima volta che lei è tornata in Ucraina? Ma io sono stato anche un mese prima della guerra, per una settimana per motivi familiari, e vi dico sinceramente che dovevo ritornare il 31, invece è cominciata la guerra, perciò il mio biglietto è diventato luglio. Essendo arrivato un mese prima dell'inizio dei combattimenti, che situazione aveva trovato? Io ho trovato una situazione tranquillamente, la gente viveva la sua vita reale, perché nessuno si preoccupava della guerra o di quello che potrebbe succedere. Io ho vissuto, io sono stato lì una settimana, ho visto la vita normale, la vita reale, ristoranti pieni, turisti, perciò il paese europeo che vive la sua vita reale e tranquilla. Lei che idea si è fatto di conflitto in corso? Beh, la mia idea, io chiaramente sono nato in quel paese, sono cresciuto in Italia perché sono qui da 30 anni, ma sono nato in quel paese, questa è la mia patria, perciò chiaramente forse la mia idea è forse molto forte, ma Ucraina è il nostro territorio, siamo stati attaccati, lo dobbiamo difendere, lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze e quello che stiamo facendo anche noi qui, lo stiamo difendendo perché stiamo aiutando a chi sta di là.